Viene l'antracite che è questo qua. Vuoi che ci avviciniamo subito al tappeto, Luisa? Ma sì, volentieri, anche perché io sono... Sei a piedi l'udio, perché ti fa anche un massaggio praticamente. Si, perché si vede proprio, vedi il piede che affonda, ma perché il piede affonda? Perché all'interno, adesso io mi abbasso così faccio subito vedere. Allora, all'interno abbiamo il memory. Ah, caspita! Abbiamo uno spessore di memory di circa due centimetri e mezzo che è totalmente estraibile. Vedi, ci sono gli automa chic, chicchissimi. Io lo comprerei, ma al di là della connotazione del bagno, è molto chic. Infatti sta piacendo questo colore antracite che sta benissimo. Messo proprio come scendi letto al mattino, se magari tu ti svegli, coi piedi nudi e non vuoi appoggiarli o comunque vuoi prima sentire questa coccola, no? Prima di alzarti dal letto. Abbinarlo proprio il tuo special bagno nel colore cioccolato. Caspita, questo è veramente... Guarda che stile. Sono colori molto chic. Abbiamo una lavorazione iniziosa, è un brand portoghese. È 40 anni che è presente sul mercato. E sai che ha più di 100 negozi in tutto il mondo? New York, Londra, nei corner più importanti di Selfridges. Cioè, è veramente il numero uno nel mondo per quanto... ...duccano linee di cotone. In Portogallo insieme all'Italia, eccetera, all'Inghilterra, sono i maggiori produttori di cotone. Ma piacciono molto. In questo caso, il Graziosa, che è questo brand, è la posizione del tappeto, che sia a bagno o che sia a camera. Sì, direi, e poi con questa occasione da 46 euro a 29 euro e 90 centesimi, sai che se c'è Dani che gira o è lì in disponibilità? E questo colore è veramente un colore che trovo molto elegante, ma anche che trattiene molto di più lo sporco, no? Assolutamente. Poi, come cotone, è un cotone super assorbente. Quindi possiamo usarlo anche fuori dalla doccia. Quando tu esci dalla doccia, il cotone assorbe completamente l'acqua e poi chiaramente lo laviamo tranquillamente. Estraiamo, adesso ti mi abbasso e ti faccio vedere ancora. In bagno, quando mi asciugo i capelli, quando mi trucco e ci metto del tempo. Stare su uno spessore come questo, che ti invoglia a muovere i piedi, perché sai, Cri, che non dobbiamo mai stare su due piedi. Mi raccomando, sia che si abbia un cotton cloud, ma ti dico che in un relè sciato in Francia avevano tutta questa linea di Graziosa. Per farvi capire che a volte puoi avere il lusso veramente a caffine. È vero che facciamo per la nostra casa, ma ne facciamo anche per noi e la nostra famiglia. Il coccolo è importante. La mattina, quando ci alziamo, mettersi in bagno e truccarsi, farsi la barba, non è il nostro caso, asciugarsi i capelli su un memory form, su un cotton cloud, ti fa iniziare la giornata con uno spirito diverso. Allora, andiamo a vedere gli altri colori. Questo intanto è l'antracite, è quello che vi sta piacendo di più e io lo utilizzerei anche per... Sta saltando su questo bellissimo tappeto per bagno in cotone e memory estraibile, 3000 grammi e metro quadro. Questa è la versione beige? Sì. Lino. Lino. Questa è la versione lino. Poi abbiamo altri bellissimi colori, accanto abbiamo la versione antracite, questo antracite. Perché a uno viene proprio voglia. Ma perché io affondo? Perché da casa si domanderanno... È un fringuellino, Luisa, non è pesante, lo dico. È una bambolina. Sì, una bambolina del 99, come dicevi. Allora, guardiamo un po', perché tu affondi... Come dicevi tu, innanzitutto i 3000 grammi al metro quasi, io ce l'ho nel mio bagno e cosa faccio? Quando mi asciugo i capelli e quando mi trucco, tu sai che non bisogna mai stare su due piedi fermi. Fa malissimo, fa malissimo alla schiena, alle nostre curve primarie. Sei stirata e alzarne uno su uno sgabellino. E' un po' pazzesco poi di qualcosa. Questo, vedi, la mattina quando ti trucchi, chi si fa la barba, chi si asciuga i capelli, eccetera. Ecco, questo fa un massaggio al piede e tu la mattina cominci la giornata con questa coccola. Dobbiamo cominciare dalle piccole cose, dalle piccole coccole. Ma è vero, scendere dal letto e mettere i piedini qua. Camera o da bagno, perché qui parliamo di un cotone veramente extra, extra, assolutamente. Questo è il vero cotone, 3.000 grammi al metro quadro, vuol dire che questo cotone innanzitutto ha consistenza, compattezza e spessore, ma nello stesso tempo lo possiamo lavare 10, 100, 1000 volte e rimarrà sempre questo volume, perché in giro di tappetini ce ne sono tantissimi. Si, si vede, però qui, dov'è il risparmio? Il risparmio è sulla lunga durata. Mi è capitato una volta di prendere un tappetino, di lavarlo, evidentemente in lavatrice, la parte sotto si è ristretta di più rispetto alla parte sopra, perché praticamente aveva una struttura, un tessuto differente sotto rispetto a quell'assorbente sopra e si è ristretto, dunque si è tutto deformato. Mi diceva Nadia dalla regia che ne rimangono 120 in totale, chiedo conferma, mi dava un'informazione di vendita, dunque l'ho persa, casomai adesso si sente miri da questo... E poi i colori sono molto chic, perché sono proprio colori che richiamano le grandi dimore, sono proprio fatti volutamente. Questo è il colore Nadia, che ne rimangono 120 nella versione zaffero e 80 in questo color menta. Io vi voglio solo far vedere una cosa, un'altra cosa, guardate la bellezza qua. Ecco qui i piedini della nostra Luisa che ballano su questa nuvola di cotone, My Cotton Cloud di grassiosa, un soffice tappeto bagno, in cotone e memory estraibile, 29,90 euro. Considerate che il prezzo QVC è di 46 euro, qui risparmiate davvero tantissimo, sarà quasi il 40%, 30-40% per poter avere un vero e proprio lusso nelle vostre case, nei vostri bagni, ai piedi del letto. Luisa, all'interno, ma perché vogliamo far affondare il piede? Perché la mattina quando ci alziamo, come scendi letto, come scendi letto in queste mattine gelide, fredde, brutte, che cosa terribile, brutte, fredde che non ne potremmo più. Alzarsi la mattina e prima delle pantofole mettere i piedi un minuto su questo, innanzitutto aiuta la circolazione perché è un vero massaggio. E poi è bello, una coccola, una cosa carina. Sì, sì, tu pensa di uscire dalla vasca o dalla doccia al mattino. Cuscino, brava, è un cuscino sui piedi. Ti dico, te lo ruberà il tuo cane, te lo ruberà sicuramente. Io, per esempio, lo immagino anche per fare meditazione, per chi la fa, per chi pensa che ho rubato il cuscino al mio cane. Se si sono invertiti i ruoli, lei mi ruba il letto, io le rubo il cuscino per stare a terra. I capelli ci trucchiamo. Avere una morbidezza così ci consente anche di muovere i piedi con facilità e va bene, perché non va mai bene stare su due piedi fermi. Questo è un consiglio che do, a prescindere da mai cotton cloud, non state mai ferme sui due piedi. Non fa bene, non fa bene per l'aspiradossale, non fa bene per la circolazione. Dobbiamo sempre muovere i piedi. Ma vediamo i colori, ci siamo dimenticate completamente. Io stavo, tu che sei lì che danzi sulle nuvole? Io sono sullo zaffero. Perfetto, per inciso. Colore prezioso. Questo è il color lino. Lino, molto schisci.